e ragazzi bentornati su real napoli football dal vostro vice football in questa puntata andremo a giocarci la quarta partita del campionato e della divisione 4 dopo le prime tre come vedete sono andate con sconfitta vittoria e parigi in extremis bene così andiamo a vedere l'avversario nel frattempo ragazzi vi chiedo di mettere un mi piace di seguire il canale se vi va di supportarmi me ne sarei molto molto grato qualsiasi cosa qualsiasi commento qualsiasi scambio di opinione basta iscrivete nei commenti vi rispondo sempre detto ciò detto ciò abbiamo fatto queste prime tre partite queste prime tre partite e abbiamo solo quattro punti ce ne servono altri 12 per arrivare in divisione 3 e torniamo ad affrontare il Bayern di Monaco in questa giornata del campionato della divisione 4 vediamo questo Bayern questo Bayern come si presenta e che tipologia di fenomeni ha noi andiamo con la solita squadra perché vi ricordo che gioco solo con giocatori presenti nella reale rosa del napoli Mario e lui ormai sono partite che non gioca facciamo giocare sempre Olivera Rachmani sta male anche lui giocherà Ostigard che è meglio che comincia ad abituarsi perché tra poco Kim se ne va e quindi mi toccherà giocare spesso con lui il resto dei ragazzi è tutto ok i nostri avversari non male questa formazione 4 1 2 2 1 praticamente va bene ci andiamo a giocare questa quarta partita ragazzi cercando di andarci a beccare un'altra vittoria che ci farebbe saltare cioè saltare un cazzo ci farebbe guadagnare tre punti fondamentali per andare a provare a puntare alla divisione 3 finalmente a cui mi piacerebbe approdare prima della fine della stagione perché manca poco io e poi vedremo retrocessi per l'ennesima volta perché così funziona bene così Napoli Bayer di Monaco si vola si vola ci siamo Osimè lo botta di Lorenzo palla per il ciocchi lozzano lozzano attenzione lozzano cambia tutto invece no Osimè riesce ad appoggiare la criccia caraschela che prova a tirare palla fuori anche di molto appoggiare la sua conclusione approvato criccia nonostante fosse molto lontano vendi attenzione lo botto che ho provato ad andare al contrasto non ci riesce lozzano si ma chissà lozzano si gira lozzano cambia tutto verso qui c'è caraschela caraschela dentro per zielischi che tende a una sovrapposizione un po tutti fermi qui tutti fermi attenzione di Lorenzo appoggia verso zielo palla che non riesce ad arrivare ad anghi sa attenzione zielischi niente da fare ancora osticardo bella chiusura di osticardo osimè non fa correre il ciocchi lozzano sulla fascia che ha un bel po di campo il ciocchi il ciocchi il ciocchi arriva lozzano cross di lozzano c'è osimè che incorna niente da fare la pallaria spazzata al bel monaco attenzione osticardo appoggia per anghi sa da al ciocchi lozzano che provare ad andare al dribbling il ciocchi palla per di lorenzo che crossa di sinistro cio simen che gira e di poco non la mette dentro non male come inizio non male non male non male attenzione amendi va lungo da mares zielischi prova a pressare niente da fare osimè non riesce ad anticipare di lorenzo appoggia per anghi sa che prova ad allargare per il ciocchi lozzano può correre ancora il ciocchi sulla fascia se ne va lozzano lozzano cross di lozzano non arriva la palladosi peccato ragazzi peccato di lorenzo si fa superare di lorenzo prova a recuperare grandissimo di lorenzo grandissimo giannino ragazzi anghi sa niente da fare attenzione prova il tiro dalla distanza meret meret che rilancia subito verso osimen che spizza la grande verso lozzano che cambia tutto per caraschelia che appoggia la grande verso zielischi che prova ad andare zielo zielo forse ha preso un attimo troppo ma olivera attenzione zielischi palla nostra c'è subito la palla zielischi va subito da caraschelia che si gira ancora cavara cavara non sa cosa fare adesso si gira dall'altro lato caraschelia arriva al cross in mezzo c'è osimen magia di cavara che riuscita ad arrivare al cross poi di lorenzo ciuchilozzano appoggia per olivera attenzione olivera che arriva al cross c'è osimen mamma mia ragazzi bella azione bella azione calcio d'angolo proviamo il nostro solito schema ragazzi attenzione zielischi provano ad andare da osimen c'è quara scheda che appoggia per il ciuchilozzano il ciuchilozzano ragazzi lo schema funziona napoli 1 bayern 0 quara scheda per il ciuchilo ed è 1 a 0 si vola bene così grandissimo di zielischi palla nostra lo botca vede subito quara scheda dentro per olivera per balla per zielischi osimen ancora arriva la palla al ciuchy il ciuchila mette subito dentro per osimen che l'appoggia palo incredibile zielischi vede quara scheda che arriva al tiro vedi col deboli il tiro di quara ma stiamo pressando parecchio di lorenzo la palla arriva ancora lo zano per osimen che non impatta per poco bella idea del ciuchy ragazzi bella idea del ciuchy vendi rilancia la palla arriva dalle parti di lorenzo che svetta ancora palla la palla lo botca dentro per osimen dentro per il ciuchilozzano che prova a correre il ciuchy dribbling del ciuchy fantastico il ciuchy il cross in mezzo zielischi per poco per poco però calcio d'angolo attenzione tanto giallo per un giocatore del bayern per un entrato precedente su lo botca attenzione e attenzione che qui riproviamo con lo schema perché zielischi va ancora da osimen osimen la spizza c'è quara che per poco non fa il tabin uguale a prima praticamente zielischi allarga verso il ciuchy lozzano si è scudato pallù vabbè lozzano recupera palla attenzione il ciuchy il ciuchy lozzano lozzano dentro per anghissa frem zambo anghissa 2 a 0 giocata pazzesca di lozzano che vede anghissa il rimorchio ed è 2 a 0 napoli ragazzi 2 a 0 2 a 0 attenzione luiz dias però mamma mia toni meret rilancia meret attenzione c'è osimen prova ad appoggiare niente lo botca ricorre una gran palla poi zielischi non riesce ad appoggiare a nessuno attenzione prova ad attaccare il bayern monaco kim ma deve recuperare kim niente da fare anghissa meret ancora meret che riesce ad allungare per quara schele attenzione quara si gira quara ha provato a darla ad osimen che alla fine non fa un cazzo pensavo di questa palla niente fa kim ricorre la palla invece poi la riperde e poi la recupera e poi la riperde attenzione è gol del bayern mamma mia ma io però è assurdo cioè noi facciamo due tre minchiate di fila e prendiamo gol per carità giusto ma io devo attaccare devo fare 70 tv per segnare ma che cazzo comunque lo botca palla per il ciuglio lozano subito sulla fascia lozano prova a correre la lascia a di lorenzo palla per lo botca la palla arriva attenzione a zielischi che prova ad allargare per qui c'è quara schelea che si gira quara schelea dentro non si è rischi non ci credo la palla resta lì nessuno la colpisce ed è preda del portiere attenzione anghissà niente da fare io lorenzo per la palla per loro anghissà lascia sporcare ancora fine primo tempo fine primo tempo in cui onestamente meritavamo molto molto di più ma alla fine ci tocca essere in vantaggio solo di una di 2 a 1 vediamo nel secondo che cosa succederà il primo tempo tre gol tante emozioni e sicuramente la ripresa dio pane ci siamo ci siamo attenzione baermono con il ripartito secondo tempo fondamentale per il nostro cammino di lorenzo il ciuglio zano però a far correre subito simen o simen perché il pallonetto olivera olivera bravissimo palla per zielischi ancora olivera erroraccio di olivera kim anghissà lobot cattone bravissimo giannino di lorenzo anghissà senza complimenti qui ciuchi zielischi palla per anghissà attenzione il primo a penetrare con anghissà che allarga per il ciuglio zano che può arrivare al cross lo zano ciò simen non riesce ad impattare purtroppo attenzione lobo o giannino di lorenzo spalla per meret che rilancia lungo verso victor osi men che appoggia ranghissà la palla non arriva l'anghissà break di di lorenzo palla per il ciuglio zano lo zano prova a ridarla a di lorenzo ci riesce di lorenzo la perde qui brutta giocata attenzione osti guard brutta giocata di osti guard attenzione a yosako ad osako sti guard osti guard bravissimo di lorenzo prova andasse di lorenzo poi cambia tutto osi men prova a spizzarla non ci riesce attenzione tone e osti guardo sulla traiettoria palla fuori laterale per noi insomma retta che cazzo stia facendo comunque va bene rilancia subito alla fine verso osi men che appoggia a kricia quara schella che fa correre subito zielischi zielischi prova a tenerla fermato zielo attenzione anghissà palla per il ciuglio zano zano lo zano lo zano lo zano attenzione lo zano dentro per osi men ha provato la giocata al ciugli assi men un po non l'ha capita e un po non ci è arrivato attenzione anghissà chiude kim chiusura di kim di lorenzo per il ciugli lo zano sulla fascia il ciugli può correre se ne va lo zano se ne va lo zano lo zano sulla fascia incredibile ciugli lo zano non arriva al cross però ricora palla attenzione palla per di lorenzo anghissà di lorenzo per il ciugli ancora di lorenzo cross di di lorenzo ciò si men che non arriva a impattare bene anghissà si è rischi lo schi men dentro per osi men ha cercato la giocata zielo un po difficile lo botca non riesce a contrastare e poi olivera ricopre la palla attenzione ancora il bayern ha provato ad attaccare olivera olivera bravissimo olivera appoggia zilischi attenzione zielo che prova a cambiare tutto non ci riesce anghissà a contrasto fermato mentre la fare poi di lorenzo svetta palla per il ciugli lo zano di lorenzo prova ad andare ancora in sovrapposizione si ferma di lorenzo palla per il ciugli lo zano anghissà osi men anticipato da frimpong anghissà lo botca anticipato zielischi olivera kim lobo anghissà a provare ad andare dal ciugli lo zano brutte palle qui eh attenzione osticardo non riesce a chiudere chiude però kim solo per un attimo kim perde palla sono tornati in partita quando tutto sono perduto hanno trovato la forza di reagire e riaprire la gara no parola non un colpo di testa difficile ma l'esito regala la stessa soddisfazione il gol è nato da un cross veloce eseguito alla perfezione la palla ieri vado come meglio non poteva eh raga adesso fa molto male fa molto molto male molto molto male perché non ce lo meritiamo proprio porca troia mettiamo un po' elmas posto di lobo ci può stare molto molto male questo gol molto molto male dobbiamo segnare di più prima non ci siamo riusciti proviamo con questo assalto finale questo 4-2-4 osi men kim provare ad andare da elmas erroraccio qui attenzione ostigard meret provare ad andare lungo verso osi men che appoggia elmas recupera palla grandissima palla recuperata elmas ciolito simeone provare ad appoggiare per quara schelia che provare ad andare al tiro non ci riesce quara non ci riesce quara attenzione osi men recupera palla provare ad andare dentro da ciolito simeone che prova al tiro palo incredibile palo interno incredibile del ciolito di lorenzo recupera palla di lorenzo se ne va se ne va di lorenzo dentro per osi men che appoggia per il ciolito il ciolito il ciolito il ciolito porco dio il ciolito e adesso bisogna mantenere e adesso bisogna assolutamente mantenere ma non cambia un cazzo adesso il 4-2-4 e sti grandissimi cazzi ostigard il ciolito elmas attenzione provare ad andare a contrasto ci riesce attenzione palla per osi men quara schelia prova il dribbling quara ad olivera che è solo olivera al cross in mezzo un minuto ragazzi un minuto kim kim vai dietro vai dietro da meret fantastico e finisce qui grandissima vittoria 3 a 2 ragazzi la portiamo a casa meritatamente assolutamente con un fenomenale ciolito bene così bene 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 bene